Buongiorno, Catargina. Buongiorno. È un piacere di essere qui. Oggi presentiamo un lavoro di arte di video che mostriamo durante la Exhibizione Fragmented Identities. Stiamo presentando i vostri lavoro in due locazioni, qui nel Palazzo Albrizzi Capello e nella Galleria di San Marco. Quindi, diciamo più di questo lavoro di video che stiamo presentando. Ok, questo è... Ciao a tutti. Buongiorno. Questo è la video performance progestinazione, che è il mio amore e il mio dolore. Questo è un fletto di performance, video art, installazione art... È una performance che facendo durante il video. Sì, è una visualizzazione di un'individuo in search for il loro modo. È una visualizzazione di un'individuo in un'individuo in un'individuo. È un'individuo in un'individuo in un'individuo. È un'individuo, afferminato, l'attraggio, 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 l'attraggio. Perché, io credo, è molto importante e essenziale per rinforzare il nostro innere vero. E per comprendere, l'attraggio, 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 e anche per l'attraggio per l'attraggio, se la situazione sarà necessaria. È un'individuo in un'individuo in un'individuo in Russia che resta in un'individuo in un'individuo in un'individuo in 4 a.m. a meno 12 a.m. e spiegare a te, come mi arrivò in questa vita? Cosa è successa? Sì. Cosa è la tua tradizione? Hai venuto dal teatro, dal danza? Cosa è una forma in cui hai lavorato come performante? Non, in realtà ho dovuto diventare un diplomat. Ho studiato internazionali relazioni in università. Ok. Ma come vediamo, qualcosa si è vero. Quindi ho studiato. Ho cambiato. Sì. Ho studiato studiare la storia moderna arte, ho diventato un'artista. e ora ho studiato in Katana Video Art and Performance Theater, che è stato creato da qualche anno fa, da me e la mia art directora Anastasia Pekševa, che è anche un filmatore, un artista e un produttore di questo particolare lavoro. Ok, bravo. Quindi questo è il tuo primo lavoro di video che hai creato? No. No, è stata la prima live performance. Ah, è la prima live performance. E cosa riguarda il settore? Vedo che c'è una struttura con la luce. Oh, sì. Oh, sì, sì. Hai creato la per la performance? Sì. Sì, sì. In realtà ho studiato tre anni, cercando di trovare il perfetto luce, per il film predestinazione. e abbiamo avuto molte difficoltà, come le condizioni stagliate. Sì. Perché la temperatura era molto piccola, ogni volta che abbiamo dimostrato. E abbiamo avuto molte problemi tecniche, perché l'elettricità nella luce è un'attricità. Non è la migliore. Sì. Sì, sì. e dopo tre anni di dimostrare e filmare, abbiamo finito con 220 volti. E abbiamo pensato che viviamo solo una volta. Perché non? Sì. È stato un piacere, per me, per avervi qui e per presentare la vostra performance e la vostra video. E spero che la prossima ci saranno anche una reale live performance. Potremmo. Sì, potremmo. Perché non? Sì. 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 Sì.